Dopo che ci avete regalato questo meraviglioso concetto e soprattutto ci avete fatto viaggiare l'accezione locale nella memoria come tipo e violina è un argomento che accompagnerà della tenda, sembra quasi qualcosa di locale, mentre invece voi avete ben rimbalito e fatto comprendere a questo attento pubblico perché stanno venendo fuori maestri mandolinisti a questo pubblico. Quindi grazie, grazie, grazie. E nello stesso tempo ci piace ricevere le nostre impressioni dopo. Le impressioni ovviamente quando abbiamo i giovani che si impegnano in qualcosa di culturale per ricordare una pratica artistica che è italiana a tutto tondo, è chiaro che questa cosa può solamente fare anche piacere ed orgogliere. Quando poi viene messa in un contesto bello come questa chiesa, in un posto incantevole come la penisola sorrentina, abbiamo la quadratura del cerchio. Professore possiamo strapparvi una promessa di ritorno? Assolutamente sì. Che ormai questi ragazzi dobbiamo crescere, dobbiamo accompagnare, dobbiamo spingere in alto e quindi completiamo questo lavoro. E anche sostenerli, assolutamente sì. i nostri auguri ai nostri consigli. Assolutamente, grazie e ci rivedremo presto.